Ciao e benvenuti nel nostro canale. In questo spazio sacro esploreremo insieme le profondità della parola di Dio e cercheremo di farla risplendere nella nostra vita quotidiana. Ma prima vi chiediamo di iscrivervi al canale, condividete e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.